Concorrenti Isola dei Famosi 2020. Gli ultimi rumor su reality show continuano a rincorrersi all'impazzata e rumor sui prossimi concorrenti dell'Isola dei Famosi 2020 dopo quelli emersi sulla probabile conduttrice che come ben saprete non dovrebbe essere più Alessia Marcuzzi ma Ilari Blasi. Sconosciuti ancora gli opinionisti, nonostante all'inizio del programma manchino soltanto una manciata di mesi, sono emerse indiscrezioni su Ascanio Pacelli e Stefania Orlando che non sono certo due nomi da poco. Veniamo subito al dunque. Sconosciuto Katia Pedrotti, ha dimostrato di avere il carattere giusto per creare dinamiche all'interno di un gruppo. A intuito potremmo dire che anche la Orlando, la quale non ha certo bisogno di presentazioni, potrebbe essere perfetta per un reality show ma non avendo la vista all'opera non abbiamo certezze. Gli ultimi rumor sul cast dell'Isola dei Famosi al momento i rumor sui possibili concorrenti dell'Isola sono tanti, si parla di nomi che avrebbero un loro perché, a partire da quelli di Jack Vanore e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne fino ad arrivare a quelli di Marco Baldini, Rosanna Lambertucci e Alessia Macari, Gli ultimi tirati in ballo dal gossip, hanno fatto in realtà anche il nome di Alessandra Mussolini ma potrebbe prendervi parte non come concorriente bensì come opinionista. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo tempestivamente.